Gli studi sulla solitudine sono in crescita e sono sempre più importanti sia sul versante della solitudine del caregiver di cui parlerò prevalentemente oggi che sul versante della solitudine come fattore di rischio di demenza. Tra i fattori di rischio che sono stati così ben ricordati dal professor Mariani davvero la solitudine è un fattore di rischio trasversale perché passa attraverso tutti perché l'attività sociale, l'attività fisica, l'attenzione al proprio corpo passa attraverso la solitudine perché la persona sola tende ad avere minore attività intellettuale, minore attività fisica, minore capacità di avere relazioni. Il nostro è uno scenario di difficoltà, di una società che ha paura, che si nasconde, una società che è ancora piena di stigma. Stanno riducendo pesantemente i servizi attorno al problema della demenza e quindi la diminuzione dei servizi vuol dire di fatto anche aumento della solitudine perché la famiglia o la dia del caregiver malato che non è adeguatamente assistita da servizi pubblici o privati che siano tende poi a rinchiudersi, tende ad avere meno tempo per uscire, ad avere meno tempo disponibile per le relazioni. E se la città si chiude, la casa si chiude, la casa protegge ma può anche imprigionare. Che fare? Di fronte a questa società che pare povera, impaurita, nella quale la mia solitudine di caregiver porta anche una riduzione del capitale sociale, non porta soltanto ad un danno a me, non porta soltanto un danno alla persona che io assisto, ma porta certamente un danno alla collettività perché non si costruisce. Io divento un'isola che diventa nemica della costruzione di capitale sociale, che diventa nemica di una visione unitaria della vita civile. Che fare? Come costruire un'empatia sociale. Combattere la solitudine vuol dire combattere lo stigma, combattere l'abbandono, combattere la marginalità, combattere tutte quelle situazioni per le quali la persona affetta da demenza e chi di lui si occupa si sentono estranea alla collettività. Papa Francesco diceva, nessuno può rialzarsi, proteggersi e riscaldarsi da solo. Ecco, credo che sia una frase molto semplice, nessuno può rialzarsi, proteggersi, ma nemmeno riscaldarsi da solo. Il termine riscaldarsi mi ha fatto molta impressione perché credo che talvolta davvero nelle famiglie delle persone affette da demenza, il gelo della solitudine sia il sentimento preponderante, sentimento, condizione, verso la quale noi dobbiamo impegnarsi per cercare di vincere la piccola fatica per gli operatori, piccola fatica per una comunità, grande risultato per chi soffre. Grazie.